A differenza di altre volte, vogliamo dedicare un video a una persona molto particolare, al maestro Leiji Matsumoto, che è scomparso proprio di recente. Una persona che ha consentito a molti di noi, soprattutto quelli che rientrano nella fascia tra i 40 e i 50 anni di età, di sognare, di sognare guardando le stelle. Abbiamo sognato tutti il mantello nero e la benda sull'occhio dove c'è la cicatrice di capitanarlo. O abbiamo sognato il treno spaziale, il Galaxy Express. O magari abbiamo sognato di imbarcarci sulla Cargo, così la chiamavamo in Italia, l'originale Yamato, per esplorare mondi sconosciuti e per portare alla salvezza l'umanità. Ammettetelo dai, lo abbiamo sognato un po' tutti.